Ragazzi avete ragione, sono poco attiva oggi, ma perché sto facendo delle chiamate di lavoro, degli appuntamenti e poi altre cose, facciate domettiche e anche portare il Gohan al spasso, che non è proprio una passeggiata, eh? Tra il po' sto giorno far uscire il Gohan è un impegno, ve lo posso assicurare. Io ora non solo devo raccogliere la cacca, ma devo anche pulire. Come ti è venuto di farla qua in mezzo, no? Vabbè. Stasera, cenetta, casa Donna Maria. Ma sappiamo anche che bisogna restare con i piedi per terra, altrimenti quando tutto finisce è un duro colpo. Vedremo se Antonella avrà dell'arte da mettere a disposizione dei suoi fan come ha già fatto Edoardo incidendo due canzoni.